Amici di Live Social, bentornati, bentrovati a questo nostro consueto appuntamento, questo spazio dedicato all'informazione che ci dà conto di tante realtà presenti sul territorio, in particolare dedicate queste attività al settore immobiliare, che crediamo davvero possa essere un buon volano per la ripresa tutta delle attività, insomma, per quanto riguarda le piccole e medie imprese. Oggi in particolare andiamo con la nostra lente di ingrandimento in Sicilia e siamo nella bella Ragusa, parliamo con Ivan Tirrito, titolare di Pronto Casa Group. Benvenuto a Live Social. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, una realtà importante quella della vostra agenzia immobiliare, quando nasce e con quale intenzione? Noi abbiamo festeggiato i 25 anni quest'anno, quindi è un'azienda piuttosto nagliata. La nostra intenzione è quella di fare bene il nostro lavoro, lo facciamo da tanto tempo, abbiamo validissimi professionisti all'interno del nostro organico e devo dire che siamo un'azienda assolutamente italiana e di questo ne siamo veramente orgogliosi. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti.